Vengono scoperti mentre stanno mettendo a segno l'ennesimo colpo in abitazione, scatta l'allerta ai carabinieri e parte un inseguimento alla guardia e ladri tra le vie di Cassola sino a quando, in piena campagna, i malviventi abbandonano l'auto e, complice il buio, riescono a far perdere le loro tracce. Tutto a inizio quando arriva al 112 la telefonata di una donna, residente a Cabaroncello, a Bassano, che segnala spaventata la presenza di alcuni individui vestiti di scuro con torce in mano, che armeggiano vicino casa sua. Almeno in tre, vistisi scoperti, si danno alla fuga a bordo di un'auto. Viene dato l'allarme a tutte le pattuglie del circuito per trovare il veicolo con dentro i ladri. Di lì a poca distanza i militari notano un Alfa Romeo che li insospettisce. Decidono di seguirla, ma vengono notati dal conducente dell'auto in fuga che prova a seminarli sfrecciando lungo le vie secondarie di San Giuseppe per poi fermarsi, dicevamo, nella zona di campagna della frazione e scappare a piedi. Nel veicolo abbandonato venne rinvenuto diverso materiale che non lascia dubbi agli inquirenti. Arnesi da scasso, guanti, due zaini contenenti un flessibile, una prolunga e un'accesoia pneumatica. È caccia agli uomini e per questo dal comando di Via Emiliani fanno sapere che verranno ulteriormente intensificati i controlli sul territorio.